Quattro condanne ed una soluzione ma in realtà sono già tutti fuori dalla carcere. È stata emessa dal GIP del Tribunale di Arezzo Pier Giorgio Ponticelli la sentenza sul processo relativo alla maxirissa a Saione dello scorso agosto. Il processo era a carico di cinque cittadini nigeriani. Le pene vanno da un anno e quattro mesi a due anni ed un mese. Quelli che sono stati condannati dovrebbero stare in carcere. Se hanno commesso dei reati è giusto che li parli. Non si può essere sempre permissivi. I magistrati fanno il loro lavoro e lo fanno bene, quindi come si fa a dire senza sapere bene i fatti, come stanno le cose. E poi se le leggi prevedono questo bisogna adeguarsi. Che posso dire? La legge italiana è troppo leggera. Per i cinque nigeriani le manette scattarono la sera stessa in cui si accese la maxirissa nella quale si affrontarono una cinquantina di persone con bottiglie, bastoni e coltelli. Ma da tempo erano già scarcerati. Tre di loro avevano optato per il patteggiamento ed è arrivata una condanna ad un anno e quattro mesi. Altri due avevano scelto invece il rito abbreviato che prevede in caso di condanna uno sconto di un terzo della pena. Uno ha ricevuto la pena di due anni ed un mese, mentre un quinto è stato assolto in quanto riconosciuto come aggredito e non aggressore. Per qui non è che si vive bene. Perché? Perché è sempre casino. È sporco dappertutto la mattina. Non siete tranquilli? No.